Per celebrare finalmente questo grande evento, la nostra prima cena tutti e quattro insieme, ho deciso di preparare un dolce molto, molto speciale. Marta ha tutta l'aria di essere buonissimo. È buono da morire, letteralmente. Io lo chiamo morte al cioccolato. Data la tua esperienza come pasticcera, è una predizione. La cucina non è uno dei suoi talenti, Marta. Beh, non esattamente. Mentre diciamo che conservo la mia energia creativa per perfezionare un'arte molto più nobile, la recitazione. E lei, Jim, come procede la sua vita da avvocato? Sono alle prese con una class action che mi tiene molto occupato. Interessante. Spero che lei riesca a trovare il tempo per rilassarsi e concedersi qualche svaro. Beh, certo. Mi piace guardare le partite di baseball ogni tanto. Oh cielo, il baseball non è terribilmente noioso. In effetti richiede una certa dose di pazienza. Una certa mancazza di brio, vorrà dire. Credo che mio padre apprezzi soprattutto la peculiarità del gioco. Oh, beh, certo. Devo ammettere che ha anche i suoi pregi. Mia madre intendeva dire che non è esattamente movimentato. Certo, ma dipende da che punto di vista lo guardi. Sì, suppongo che sia uno sport adatto alle persone più serie, più perspicaci. Jim! Potrebbe spiegarmi che cosa significa? Soltanto che gli attori per natura non sono le persone più serie del mondo, giusto? Oh, è così che la pensa. Non mi considera una persona seria? Che ne direste ora di tuffarci nel desserto? Sì! La faccenda della morte mi sembra la prospettiva migliore. C'è stato un omicidio in centro. Vicinissimo. Mi dispiace, ma dobbiamo andare. State attenti voi due. Sì, anche voi due. Dico solo che ci sono state cene peggiori. Sì, quali? La scena della cena in Alien, per citare un esempio. Se dal petto di mio padre fosse uscito un alieno sarebbe stato meno penoso. Dovevamo aspettarcelo, provengono da mondi così diversi. Tua madre avrebbe dovuto essere più sensibile. Che cosa vuoi dire?